Oggi dove sei? Da Barbara la parrucchiera? Ma non la parrucchiera vera, la parrucchiera finta! Che sempre Barbara si chiama! Ti vede il cameraman allo specchio! Il cameraman allo specchio! Mantellina! Ricordi che l'abbiamo comprata insieme questa mattellina? Sì! Eravamo a letto e l'abbiamo scelta! Così! Signore, come li vuole i capelli? Taglio tattico! Prato zero! Che non dobbiamo rifarli tra poco! Come li vuoi? Non lo so! Non lo sai? Davvero è così che gli umani normali diventano i capelli quando crescono? Cioè? Invece i miei sono... I tuoi sono ricciolini! Andiamo? Abbassa la testa! Io decisamente ne ho! Sì! Poi ci divertiamo a scopare tutta per terra! Non trovo quello più piccolo per quelli più corti, quindi i corpi dietro dovranno andare un po' a naso senza questo! Come ti senti, Nico? Spelacchiato? A me sembra quel che altro peloso! Peloso! Sì! Adesso poi facciamo le basette con le forbici, eh! Va bene? Poi ti libero! Vediamo se... Riuscivo a fare un lavoro decente nonostante la mancanza di alcuni pettinini! Testa giù! Poi ti fai una bella doccia e poi mettiamo il gel? Mh? Ok! Allora, mi sembra decoroso! Adesso si fa una bella doccia, poi mettiamo il gel e per adesso va bene così! Per la prossima volta andiamo sia lui che Elena da Barbara alla parrucchiera vera! Però così stai un po' più fresco! Come ti sembra, Max, qua? A posto, sì! Vuoi fare la doccia? Ok! Sembra Nicola! Guarda, facciamo i capelli di Nicola e poi sotto facciamo il peccino di Nicola, il profilo di Nicola! È schiacciato il naso, vero? Ah sì? Eh sì, è vero il naso! Ah! Non è così più realistico! Ecco! Ah, con il classico aumento pendente di Nicola! Ha giusto un po' il mento! Aspetta, qua sotto... Non c'entra niente! Così può andare... Ha giusto un po' il mento? Sì! Tipo così? No, molto meglio! Ok! Nicola! È come una fenice, è rinato da verso ceneri! Sì! Dovrei sistemare i miei, non i suoi! Va! Ok! Verona Nicola ha dei capelli! Eh sì sì! Allora! Mettiamo un po' di gel! In modo da... In modo da... Sembrare... Quasi ricchi! Così, vero? Che ricchi metteva sempre... È un po' di gel! Non è che... Ha messo un pezzo di gel! Un pezzo di gel! Diventato quella persona! È un pezzo di gel! Ohhhh! Così va bene? Sì! Vuoi ancora un po'? No, così va bene! Va bene? Ok! Allora, fatti vedere da Max! Vedendo la cima, perché dalla cima si può vedere così! Sei soddisfatto? Posso darti un bacino? Sì! Ok!